Se pensate di acquistare una macchina per la cura del prato, ricordatevi che nessuno vi offre più qualità e più varietà di Giondia. Per esempio la serie 9030 Giondia, con cabina acclimatizzata, può arare un giardino di medie dimensioni in appena 4 secondi e mezzo. Ma c'è anche la serie X700 Giondia, non all'aria condizionata ma in cambio occupa meno spazio. Per il prato potete usare una Mieti Trebbia serie C da circa 250.000 euro, ma forse sia voi che i vostri vicini preferite uno dei nostri Toserba, poco più di 400 euro. Per la cura del verde nessuno dei nostri trattorini vi deluderà. Se chiedete di più ci sono altre macchine Giondia per piantare gli alberi o per spostare l'auto del vicino se parcheggiata sul vostro prato. Quindi per tutte le esigenze del vostro giardino visitate il concessionario Giondia. saprà fornirvi la macchina giusta per ogni tipo di lavoro.